Sala gremita, tante maglie granata e un mix di ricordi che hanno segnato la storia del calcio e del nostro paese. Così a grandi linee si può descrivere l'appuntamento che si è svolto a Tolentino nella Sala Mari del Museo della Caricatura dal titolo Il Circolo incontra la leggenda, il grande toro vive a Superga, organizzato dal Circolo Don Luigi Sturzo. Hanno partecipato Eraldo Pecci, autore del libro Il Toro non può perdere, Gian Paolo Mugliari, direttore del Museo del Grande Torino e Domenico Beccaria della Fondazione Stadio Filadelfia. Quest'idea è nata perché il Circolo, oltre all'attività di promuovere la formazione attraverso dibattiti di politica sociale e culturale, naturalmente il Circolo promuove anche serate di sport. Io ho ritenuto opportuno, e poi il direttivo tutto, ha ritenuto opportuno fare questa serata dedicata alla leggenda del grande Torino che è sì una serata di sport, ma certamente è una storia tutta italiana. Eraldo Pecci racconta di un calcio e di un'umanità sportiva che oggi non ci sono più. La magica stagione 75-76 è la stagione della conquista dell'ultimo scudetto del toro, uno scudetto che Pecci conquista al primo anno con la maglia Granata. Tutte le parti d'Italia, anche se non sembra, la fede per il toro è viva, anche se i risultati oggi non invitano a fare toro, però c'è una storia che è incomparabile. Sono innamorato di tutte le maglie che ho indossato, perché sono maglie gloriose, quando giochi per una squadra diventi anche tifoso. Però il toro è l'unica squadra nella quale ho giocato in una città dove ce ne sono due, e l'altra era la Juventus, per cui tu eri sempre sotto, tra virgolette, come potere economico, come tante cose. Per cui questo fa sì che solidarizzi. E poi, ripeto, la storia del toro è costellata di tante cose che ti uniscono ancora di più. E poi, ripeto, la storia del toro è costellata di tante cose che ti uniscono ancora di più. E poi, ripeto, la storia del toro è costellata di tante cose che ti uniscono ancora di più.